Mancava solo questa Tino, mancava solo questa. Allora, proprio in queste ore abbiamo pubblicato l'ultimo, ennesimo articolo per mettere in guardia soprattutto gli anziani e i parenti di questi anziani dalle truffe perpetrate ai loro danni da finti avvocati, finti carabinieri che cercano soldi per scagionare nipoti, figli da incidenti che non sono mai avvenuti, amici di infanzia, insomma, quando vi chiamano per segnalarvi che qualcuno dei vostri nipoti, figli, lo dico soprattutto agli over 70 che pure ci seguono, lo dico soprattutto a loro, non vi dovete fidare, non vi dovete in nessun modo fidare. Però c'è un fatto gravissimo che è capitato in questi giorni, aspettavo il momento giusto per dirlo e per ricostruire esattamente tutta la storia, vengo fermato ad Adelfia, sapete io abito ad Adelfia, in provincia di Bari e la moglie di un noto professionista della città mi ferma in piazza e mi racconta quello che è capitato qualche ora prima a casa, riceve una telefonata, riceve una telefonata da Antonio Loconte, cioè dall'altro capo del telefono qualcuno dice sono Antonio Loconte. Sono Antonio Loconte, cercava il marito e in casa suo marito probabilmente, avendo fatto male i calcoli, credendo non ci fosse, perché a quel punto avrebbe potuto usare il mio nome, il fatto che io conoscessi questo professionista, chissà per spillare cosa a questa signora. Dunque soltanto questo mancava, come ho detto all'inizio, se qualcuno dovesse chiamarvi, spacciandosi per Antonio Loconte, per Quinto Potere, sappiate che non chiamiamo nessuno, che non chiediamo soldi a nessuno, che non ci proponiamo di salvare nessuno con queste modalità, che non si ha bisogno di soldi per aiutare qualcuno che ha avuto un incidente, che sta in galera e tutta una serie di altri argomenti che vengono tirati in ballo da questi truffatori, quindi a maggior ragione se vi dicono sono Antonio Loconte, anche perché quando poi la signora ha chiamato il professionista per nome e lui si è avvicinato al telefono per chiedere cosa Antonio Loconte volesse da lui, è partita la storia di voler chiedere un'intervista, cosa che non era anche in quel caso assolutamente vera, poi è stato tagliato corto, è stato chiuso il telefono, quindi mi raccomando, intanto le truffe in generale, ma poi soprattutto né io, né Tino, Raffaele, Eleonora, nessuno può spacciarsi oltre noi per quinto potere, noi di quinto potere non chiamiamo nessuno a casa.